portando giù l'acqua curva pericoloso oddio quando mi ricordo più in che senso direi di metterla qua perfetto e direi di farsi un allevamento che parla con sollevamento una coltivazione non mi sembra dislessico dislessico perché direi che il video posto di qua il saldi la parola aspetta porto tutto se calore la classe fin che mi viene quasi la tentazione di buttarti giù ho fatto una massacrata guarda l'acqua si sta ritirando è arrivata adesso in quel punto ecco se non so che sono solo quali tutto ci sta bernard 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 desperdi bernard bernard il bel dirò che sono chiesto io ci dà ho pensato di mettere la data la sua missione a fare la sua stessa si può fare alzana casa di corsa come mai web o o o o o o o sbagliato allargo un po' la coltivazione definiti della recopilazione per la casa capitano capitano mio capitano faccio già la cosa a cui abbiamo fatto un sacco di episodi sono soddisfatto il francesco d'acqua porto no no perchè quello senza logica il resto è riscaldato per fare scuso solo per sapere su questo qua adattio penso a tutto tutti i momenti più atto che cazzo che ne frega se si va prima la terra mi ha detto mi ha detto tu hai la mente finisola fratello hai la mente chiudere però tu hai la mente chiude devi allargare la mano non va bene così non va bene così però non va bene così però dov'è anche un buco mi ricordo dove amete detto la settato la casa poi finisce l'episodio la casa del più nostro la pecosse del posto io ho fatto un buco mi tocca a venire a documentare il fatto la sento apre porte eccola eccola è lì che mi aspettava e via mi state perdendo tutta l'azione ragazzi è davvero una cosa di epico corri qua fuori corri oh mi ha lanciato la sua maledizione la maledizione pecorisca pecorica ce l'hai sopra la montagnola Tom è lì che saltella felicemente mi aspettavo mi faceva una guata quella sentivo il maiale il suo complice maiale malvagi il maiale lo uccidiamo babam babam scusa ok ragazzi questo qua è è maletto un altro episodio di tractor o raptor raptor quindi direi che è la fine not not